Sui social infiamma la polemica, lo spettacolo di Alessandro Preziosi alla scalinata di San Bernardino nei giorni scorsi per i cantieri dell'immaginario disturbato dalla musica ad alto volume proveniente dai locali vicini. La gente si lamenta e ieri esplode un'altra polemica con i chiarimenti del SUAP e il comune che detta le regole. La Fipe Confcommercio aveva diffuso una nota sull'applicazione del regolamento di polizia urbana che metterebbe a rischio di G7 musica dal vivo davanti ai locali e subito si sono scatenate le polemiche da parte dei gestori. Ieri mattina infatti dopo l'incidente diplomatico con Preziosi in comune c'è stato un vertice tra il dirigente del SUAP Roberto Vangelista e Daniela Stratta della Fipe Confcommercio che ha subito comunicato agli operatori alla stampa lo stop a qualsiasi forma di intrattenimento fuori dal loro locale elencando le sanzioni. Il SUAP dopo le polemiche è stato costretto a diffondere una precisazione. Nessun divieto hanno chiarito ma regole che vanno rispettate non c'è un divieto assoluto ha spiegato lo sportello per le attività produttive ma si potranno portare avanti quelle piccole attività di intrattenimento legate alla somministrazione dei locali a mezzanotte stop e soprattutto non più di 200 persone. Intrattenimenti spiega il SUAP che dovranno essere comunicati in via telematica e che soprattutto dovranno essere occasionali e senza superare i limiti del rumore come da normativa. Normativa quindi che è ben diversa dal divieto ma Stratta ha spiegato che già sono arrivate diverse diffide agli operatori del centro e che il regolamento impedisce di fatto lo svolgimento di intrattenimenti sul suolo pubblico che non abbiano rilevanza a carattere nazionale. Inutile dire che sul web le persone si sono scatenate come pur i gestori. Se si vuol far morire la città ha scritto qualcuno la strada è quella giusta. C'è da chiarire che da anni ormai è in corso una vera e propria guerra tra comitati di residenti e comune in merito alla Movida con le prime richieste di risarcimento danni che starebbero per arrivare a lente come comunicato pochi giorni fa dall'avvocato Fausto Corti. Su questo c'è una recente sentenza della Cassazione. Il comune paga insomma se residenti non dormono o hanno danni dalla cosiddetta Movida.